Buonasera, con me Roberto Urcic, direttore del Camping Village Mediterraneo di Cavallino Tre Porti. Roberto, buonasera. Allora, ci racconti un attimo la storia di questa struttura e che cosa la caratterizza? Dunque, questa struttura, io sono lì da un anno, che ho preso la direzione e mi sono subito innamorato, una struttura che esiste dal 1955, nata proprio sotto il segno della natura. L'hanno creato questo bellissimo campeggio sotto tanta, tanta vegetazione. E questo tuttora è rimasto in atto, dove noi ad oggi abbiamo la bellezza di 260 unità abitative e 450 piazzole. È stato completamente ristrutturato nel 2017, causa una tromba d'aria che ha devastato la struttura. In tale occasione, la famiglia, la proprietà, hanno rimesso tutto a posto e sono andati sulle 5 stelle, creando le terrazze, struttura nuovissima con 2000 metri quadri di piscine, 7 piscine, con vari servizi. Abbiamo due ristoranti, una pasticceria, produzione propria, abbiamo tutti i servizi immaginabili dal parrucchiere, la farmacia, l'assistenza per i bimbi, un mini club professionale, una palestra, una sala congressi. Dunque è diventato un centro proprio con tutto quello che ha un 5 stelle. E adesso stiamo continuando, sempre a migliorarlo sempre di più, perché è una posizione strategica importante. È tra Venezia, le lagune, è bellissimo. Allora, quindi ricerca e sviluppo, no? Ma che tipo di offerta, in termini di servizi, possono trovare gli ospiti del suo camping? Un po' ce l'hai già detto un po' prima. Esatto, dunque trovano soprattutto quasi tutti i servizi indispensabili che possono avere il logo. Naturalmente cerchiamo di dare all'ospite tutto all'interno, ma sappiamo che l'ospite comunque viene in quelle zone e piace anche andare a vedere l'esterno. Ma all'interno trovano di tutto, come ho detto, da una bellissima palestra, assistenza per i bimbi, abbiamo una bellissima spa, una piscina infinity, che è praticamente al secondo piano, con piscina a strapiombo. Dunque è tutto curato nei dettagli e questo ci sta portando a ottime soddisfazioni. In questi ultimi tempi si sente molto parlare di camping e di vacanze fatte con la natura. Ci spieghi che soluzioni vengono offerte alla vostra clientela? Dunque, esattamente. Visto anche purtroppo la pandemia, quello che abbiamo dovuto incontrare nel 2020, i camping, soprattutto all'aria aperta, sono agevolati perché abbiamo tanti spazi all'aperto dove la clientela ha tanto spazio per se stessa. Noi stiamo andando soprattutto anche verso il glamping, questa nuova tipologia di vacanza che sono delle tende molto lussuose, che sono semplici, però ti danno proprio il segno della libertà. E' quello che cercano soprattutto, abbiamo tantissima clientela tedesca, ma anche gli italiani. Il glamping è una cosa che sta veramente emergendo alla grande. Grazie mille Roberto e ricordatevi il camping village mediterraneo. Grazie. Grazie Carol.